Allora, finalmente è finito questo mondiale, buonasera a tutti fratelli bianconeri e non, finalmente questo mondiale finisce, da oggi in poi ci potremo concentrare su quello che è il nostro focus di solito o perlomeno di questo canale che è la Juventus, però è giusto dare a questo mondiale risalto e risalto stasera in questo video lo voglio dare all'Argentina campione del mondo, lo voglio dare a Messi perché credo se lo meriti, dimostrando veramente che lui e l'altro che poi nominerò sono i giocatori più forti del mondo in questo momento. Onore delle armi a comunque una buona Francia che per me però non è stata la solita Francia ma il merito è stato sicuramente dell'Argentina che a mio parere ha avuto più grinta, più rabbia, più voglia di vincere. Nei primi 70 minuti non c'è stata partita, l'Argentina è andata sul 2 a 0 e poi ha cominciato dopo il settantesimo a vivacchiare un po'. Togliendo Di Maria, Scaloni ha fatto un po', come possiamo dire, l'allegri del momento, cioè toglie il miglior giocatore in campo fino a quel momento insieme a Messi che è stato Di Maria. Qualcuno dirà ma non aveva i 90 minuti nelle gambe, ma a me pare che spesso succede in cui le partite Di Maria non le finisce fino al novantesimo, non so perché, ciò non toglie che Scaloni toglie Di Maria, arretra un po' il baricentro del centrocampo indietro e dà il linfa vitale alla Francia, la quale davanti ha un giocatore che non è un marziano ma è di più, che si chiama Kylian Mbappé, il quale in questa finale si fa tre bei gol, non uno ma tre gol, e la Francia rimette in piedi la partita. Questo per me è stato soltanto grazie all'errore di Scaloni, il quale toglie Di Maria, io non l'avrei mai tolto, almeno fino al novantesimo, più recupero, io non l'avrei mai tolto Di Maria. Però facendo questa mossa praticamente lui fa rivivere la Francia, perché la Francia comincia a crederci e trova il gol, ma questa partita che fino a quel momento era già stata bellissima, si arricchisce ulteriormente di due tempi supplementari incredibili, prima l'Argentina torna in vantaggio e poi la Francia di nuovo pareggia. Beh, signori miei, amici miei, io penso che noi stasera tutto il mondo abbia visto una delle finali di un mondiale più belle che si possano ricordare, questa finale me la ricorderò, perché è stata bella. Se una persona oggi mi chiedesse secondo te l'Argentina ha meritato di vincere? Io dico assolutamente sì, l'Argentina ha meritato questo mondiale, lo ha meritato l'Argentina, lo ha meritato Messi, che è stato sicuramente uno dei migliori in campo senza ombra di dubbio. Secondo me lui e Di Maria sono quelli che hanno fatto veramente la differenza nel vero senso della parola, da una parte. La Francia di là che cosa ha fatto? La Francia di là secondo me ha fatto poco, ha fatto. La Francia di là stasera si era salvata, tra virgolette, soltanto grazie all'uomo in più che ha avuto, perché stasera la Francia secondo me hanno deluso, non dico tutti però, non va dimenticato che il giocatore francese all'ultimo secondo si è mangiato un gol grande come una casa, oppure dobbiamo identificare il portiere dell'Argentina che ha fatto un miracolo. D'altro canto Lautaro Martinez si è mangiato due gol secondo me grandi come le case e la partita finisce su 3 a 3. La partita per me finisce sul 3 a 3, perché poi per me i rigori sono da sempre stati una cosa che, insomma, a mio parere non danno sempre i meriti a chi li ha. Stasera per fortuna i rigori hanno dato meriti a chi li ha avuti, perché secondo me l'Argentina ha meritato questo mondiale. Mbappé ci riproverà perché la Francia è sicuramente una grandissima nazionale e lo ha dimostrato anche in questo mondiale, però a mio parere stasera è mancata in alcuni uomini cardine, per esempio uno di questi è stato Rabiot, stasera a mio parere almeno letteralmente impalpabile. Un altro giocatore letteralmente impalpabile è stato l'uomo che fino alla finale aveva fatto quasi sempre la differenza nella Francia e sto parlando di Griezmann, un altro giocatore che stasera non è esistito, ma diversi giocatori. Deschamps ha provato a mettere a posto le cose con l'entrata di Coman e c'era riuscito perché Coman è entrato in partita subito. Forse se ci fosse stato Coman dall'inizio forse avrebbe potuto prendere una piega diversa la partita. Diciamo una finale leggendaria, bella davvero, una finale che ha fatto capire, ha fatto vedere quanto è bello questo gioco, l'adrenalina che si respira in queste type di partite che qualunque giocatore vuole giocare. Detto questo, poco altro da aggiungere se non il fatto che il Re finalmente ha vinto e ha vinto meritatamente. Ha vinto senza rubare nulla, forse quello che possiamo criticare all'Argentina è stato alcuni comportamenti, a mio parere, soprattutto nei confronti dei giocatori olandesi che non sono stati proprio all'altezza, ma per il resto credo che questo mondiale lo ha vinto chi ha meritato di più, a mio parere. Ripeto, onore delle armi alla squadra di Deschamps che ha fatto sicuramente un bellissimo mondiale, però ripeto stasera la Francia ha dimostrato di essere troppo Mbappé dipendente e in una finale del mondiale non può bastare. È già stato molto miracoloso quello che sono riusciti a fare stasera perché se stasera non ci fosse stata Mbappé e non ci fosse stato, ripeto, Scaloni che ha tolto Di Maria aiutando un po' Deschamps probabilmente la partita sarebbe finita nei 90 minuti regolamentari. Per cui bravo Messi, complimenti, ha raggiunto il suo obiettivo. In Argentina ovviamente tutti felici e stasera canti e balli la Francia torna in patria un po' triste, ma io credo che debba comunque essere orgogliosa per il percorso fatto. Non va dimenticato che erano i campioni del mondo uscenti, quindi i campioni del mondo in carica, scusate, oggi sono campioni del mondo uscenti, ma credo veramente con tantissimo onore e con un futuro che questa squadra ha perché la Francia ha molti giovani interessanti e sicuramente con un futuro da scrivere. Grande Messi, grande Argentina, complimenti a tutti perché mi sono veramente divertito come nel calcio, non mi capita spesso.